Dal 14 al 21 settembre, tanta l'opportunità all'Udinese Store della Dacia Arena e all'Udinese Store di Via Porta Nuova numero 1. 20% di sconto riservato agli abbonati bianconeri su tutti i prodotti della linea tecnica. Eccoci qua, siamo nello store dell'Udinese, mi raccomando, nei nostri due mega store dell'Udinese potete acquistare in questa settimana dedicata all'abbonato bianconero tutto il materiale tecnico della stagione 2016-2017 con il 20% di sconto. Ve lo dicono anche loro, mi raccomando, vero? Vi aspettiamo. Vi aspettano sempre loro, applausi, applausi! Grazie a tutti!